Sto registrando, sto registrando, boh, non lo so, vabbè Ciao amiciò, sono Loridis e oggi c'è una bella sorpresa Abbiamo usato il cervello e finalmente abbiamo trovato un modo per giocare insieme, parlare insieme Che cos'è questo? Sai che tutti dicono, usate TeamSpeak, usate TeamSpeak Sì, però TeamSpeak costa e noi non abbiamo, non, i server TeamSpeak costa mensilmente penso, non lo so E noi siamo poveri, non abbiamo soldi C'è Discord, mi racconto scrivilo così Mettiamolo in caps, Discord Cerca Discord Vai su Discord Che è uguale a TeamSpeak, è la stessa cosa La puoi sia scaricare sia usare dal browser Io ti consiglio di scaricarla perché io mi trovo sempre meglio così, però fai come vuoi Comunque la scarichi, la installi E poi la fai partire Eh, ora voglio Ok, appena parte spunta questo qui, vedi che già ho io Rezif come amico Purtroppo ho già mi aggiunto come amico Rezif, che ci vuoi fare? Abbiamo creato il nostro server, TheBunned Vedi? Vedi? Questo è il nostro server Ci sono i giochi divisi per categorie, cazzeggio, quindi chi vuole può entrare sempre Questo è il server nostro, chi vuole può entrare Puoi cercare le persone con cui giocare, puoi fare quello che vuoi Però come si entra? Per entrare nel server ti serve l'invito Che è questo codice che ti metto in descrizione E che devi fare? Semplicemente vai qua, vedi a sinistra Qua c'è un più, clicchi sul più Fai unisciti E qui ci metti l'invito E fai unisciti Ed eccolo qua E cos'è nel server Appena entri basta clicchi sui canali per entrare nei canali che vuoi tu Durante il mese di agosto vediamo di organizzare una o due partite insieme Non sappiamo quando, probabilmente verso la fine comunque, verso l'ultima due settimane Perché molti sono in vacanza E quindi questo è fatto, questo è il server Qua c'è la certa testuale che puoi scrivere quello che vuoi Qua ci sono i canali vocali in cui puoi entrare tranquillamente Decidi dove entrare ed entri Tu quando vuoi puoi entrare nel server, non ti preoccupare Una volta che metti l'invito il server è aperto per te, puoi entrare quando vuoi Se vuoi usarlo con i tuoi amici per giocare, usa, non ti preoccupare E qui fai quello che vuoi Per quanto riguarda i debanity invece organizzeremo dei giorni mensili In cui giocare tutti insieme Però questo è il nostro server Se hai dubbi scrivilo sotto il video Comunque nella descrizione metterò tutti i link Link al discord, metterò l'invito Che devi mettere, ti ricordo che devi metterlo qua Sul più unisciti e metti l'invito E ti unici tranquillamente E poi sei qui Quindi ogni tanto vedrai qualche video su youtube in cui ti diremo a che ora siamo sul server Il giorno è il gioco che useremo Oppure il gioco lo decidiamo tutti insieme, non è un problema A volte siamo nel server Comunque più o meno qua io ho messo Rocket League, Dead, Evolve, GTA V, Counter Strike e Gmod Se vi ho altri canali basta che ce lo dici e noi li aggiungiamo Possiamo mettere tutti i canali che vogliamo Cazzeggia è quello più cretino In cui se non preferite voi solo parlare e cazzeggiare siete là Detto questo abbiamo finito Speriamo che questa sorpresa ti piaccia Quindi mi raccomando Scarica discord e entra sul server Detto questo noi ci vediamo al prossimo Ciao 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 ciao